Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e nuovo volo con il Mavic Air oggi una nuova destinazione per il nostro Mavic Air, Oasi di Beggero che si trova nel parco naturale della Valle dell'Ambro di cui dopo vi lascio tutti i dettagli in descrizione quindi adesso senza perdere altro tempo, destinazione Oasi di Beggero ok ragazzi siamo arrivati all'Oasi di Beggero quindi prepariamo tutto quello che serve e decolliamo stai nanti a teore e pepare for no reason but I'll cherish everyday until you've done my way this season the seasons turn and change just like your mind like the sun gives into the moon into the night time continues marching it slowly crawls with each new one starting I recall you came into my life just like another season not for long just a time just like another season maybe this time next year you'll reap it for no reason but I'll cherish everyday but I'll cherish everyday until you've found my way this season Oh 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 ok ragazzi anche questo volo con il Mavic Air come al solito mi raccomando se vi è piaciuto il video lasciate un grosso pollice su iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi